Matteis Delit molto probabilmente lasciarà la Juventus oggi sono molto pessimista per un'eventuale permanenza in rosa di Matteis Delit molto pessimista e lo dice uno che qualche settimana fa era molto ottimista per il rinnovo quindi ho cambiato completamente la mia visione ma non potevo fare altrimenti perché le informazioni che ci stanno arrivando quotidianamente giorno per giorno ha più fonti sono tutto tranne che positive ma ci arriviamo perché non è l'unica trattativa che la Juventus sta portando avanti dovrebbe aver quasi concluso la Juve per Andrea Cambiaso del Genoa si parla di un'offerta di 4-5 milioni di euro cash più Radu Dragusin che è un giocatore che l'anno scorso tra Sampdoria e Salernitana non ha assolutamente trovato fortuna in Serie A giocatore che sembrava essere coinvolto anche l'anno scorso nella trattativa per Locatelli giocatore che poi la Juve non ha voluto cedere per cercare di capire se c'era una possibilità di trasformarlo in un difensore affidabile anche per la Serie A cosa che poi non è avvenuta in due realtà abbastanza oneste diciamo così di Serie A che hanno dovuto lottare per non retrocedere quasi fino all'ultima giornata quindi Dragusin diventa un giocatore sacrificabile per la Juventus che non è più disposta a credere in lui e la cosa buona se vogliamo nel cedere un giovane è che entra nella trattativa per un altro giovane e Cambiaso arriverebbe con una formula tutto sommato molto onesta perché la parte fissa di 4-5 milioni te la puoi permettere è appunto un giocatore che fino a questo momento non ha dimostrato granché quindi trasformeresti tra virgolette Dragusin in Cambiaso e daresti la possibilità al Genoa di avere un giocatore per la Serie B cosa che non potrebbe essere Cambiaso perché ha dimostrato tanto nel suo primo anno di Serie A è stato uno dei giocatori migliori del Genoa vediamo se poi la Juventus può essere un'arma affidabile qualcuno mi ha già chiesto la mia opinione vi dico subito che da quanto ho capito Cambiaso avrebbe scelto la Juventus piuttosto che l'Inter che era interessata al ragazzo poiché l'Inter non voleva trattenerlo subito in prima squadra bensì voleva girarlo in prestito per il primo anno invece la Juventus ha espresso la volontà di mantenere il giocatore in rosa e questo ha fatto cambiare idea scusate il gioco di parole ha Cambiaso che quindi avrebbe scelto la Juventus nello scontro con l'eterna rivale vediamo che cosa succede sicuramente l'arrivo di un terzino sinistro a Juve non è mai una cosa negativa perché noi da anni a questa parte in quel settore di campo investiamo poco male poco e male l'unico investimento è stato se vogliamo proprio Luca Pellegrini ma che è stato più una plusvalenza per cercare di sistemare i conti in quel famoso scambio con Spinazzola che tutti ricorderemo e poi passiamo appunto al piatto forte ragazzi perché Maurizio arriva bene a tutto sport non ci ha girato tanto intorno è stato abbastanza chiaro per De Ligt stiamo parlando di un altro di quei giocatori che arriva bene aveva etichettato aveva indicato aveva puntato il dito contro parlando di procuratori qualche mese fa dicendo che bisogna pensare prima la Juventus e poi i procuratori sentita oggi questa frase vedendo quello che sta accadendo a Paolo Dybala con dei problemi anche a firmare con l'Inter con Dybala stesso che sta pensando di cambiare procuratore ha tutta un'altra frase ha tutto un altro gusto un altro significato se pensiamo per De Ligt invece è bizzarro perché lo stesso procuratore De Ligt è lo stesso procuratore di Pogba quindi la pimenta la scuderia Raiola con cui si è lavorato fino adesso per cercare di incastrare uno dei colpi dell'estate bianconera proprio il ritorno il Pogba quindi è strana però è strana fino a un certo punto perché probabilmente la Juventus ha messo sul piatto questo rinnovo che De Ligt non avrebbe accettato magari consigliato anche dall'entourage che vorrebbe piazzarlo in primis se proprio vogliamo la volontà nobile è quella di accontentare le richieste di De Ligt e quindi piazzarlo in una squadra con maggior appile europeo al momento cosa che la Juventus non è intendiamoci non è e parliamoci chiaro evitiamo di prenderci in giro perché si è antiposito la Juventus non lo siamo non siamo una squadra con appile europeo anche per colpa di De Ligt secondo me De Ligt comunque è stato uno dei migliori nei tre anni trascorsi a Torino bensì De Ligt ha sempre fatto parte delle spedizioni degli Juventus che venivano eliminati agli ottavi perché l'ultima eliminazione della Juventus ai quarti tra l'altro proprio per mano di De Ligt era venuta logicamente senza De Ligt poi secondo me non è De Ligt il problema anzi ce ne fossero dei giocatori come De Ligt in rosa diversi da De Ligt però questo è e allora questa è la ragione principale la ragione secondaria se proprio vogliamo fare i maliziosi è perché spostando un giocatore il procuratore chi ne cura gli interessi qualche soldino lo prende ovviamente nelle transazioni ricorderete anche quando Pogba lasciò la Juventus per lo United una grossa percentuale di circa 20 milioni di euro era finita nelle tasche di Milo Raiola caccia via quindi per forza di cose la volontà di spostare i calciatori ma questo lo sapevamo dall'acquisto di De Ligt io ricordo i video che avevamo fatto e vi dissi ragazzi ma ve l'ho detto tante volte oltre i video un giocatore di Raiola cosa che De Ligt oggi non è più un giocatore della scuderia di Raiola curato dalla pimenta si spostano quello è il modus operandi difficile che rimangano all'interno di una squadra forse Nedved forse Amsic sono stati gli unici che sono rimasti tanti anni all'interno di una squadra gli altri storicamente girano per per le squadre più ricche fa parte del loro lavoro ed è giusto così arriva bene è stato molto chiaro però ha detto impossibile trattenere un calciatore che vuole andarsene si apre un altro scenario questa è un'intervista che è rilasciata tutto sport perché mai prima d'ora avevamo avuto la conferma ufficiale qualora le parole non siano state travisate se le prendiamo per buone De Ligt vuole andarsene se le prendiamo per buone De Ligt vuole andarsene è il non rinnovo indica la volontà di lasciare la Juve e arriva bene ha sottolineato per concludere il ragionamento speriamo che dal tavolo delle trattative quindi effettivamente la Juventus sta parlando con altre squadre per la cessione di De Ligt ci si possa alzare in tre Juventus De Ligt e procuratori e nuova squadra eventualmente Chelsea per dire tutti e tre contenti sono reso l'evidenza in questo momento in questo momento mi arrendo l'evidenza alzo la mano alzo le mani mi sono vestito di bianco sventolo bandiera bianca mi arrendo mi arrendo da baluardo della pervanenza di De Ligt mi arrendo e mi metto dalla parte della logica perché se escano queste parole posso farci poco è logico quello che dice arriva bene nel senso se un giocatore non vuole rinnovare o non vuole rimanere è possibile trattenerlo da sempre lo abbiamo sempre visto lo abbiamo visto anche con giocatori infatti la storia è molto più di De Ligt già come Messi per dire l'anno scorso non è stata proprio così perché poi Messi ha pianto perché il Barcellone però si è spostato abbiamo visto Ronaldo quando ha deciso di interrompere la sua stagione la sua carriera a Real Madrid ha detto io non gioco più qua l'anno prossimo mi sposto ma abbiamo visto anche quest'estate da noi un calciatore ragazzi quando vuole andare via va via non lo puoi tenere contro voglia a maggior ragione se ha uno status così importante come De Ligt è impossibile e me lo dice uno che non avrebbe mai nemmeno aperto alla chiacchiera per l'accessione di De Ligt mai è ovvio che questo cambia tutto questo cambia tutto quindi le parole di Rivevene sono logiche più che altro seguono quella famosa linea dura della società Juve intrapresa lo scorso anno in cui la Juve non si fa più mettere i piedi in testa dai calciatori come magari avveniva in passato qualcuno la sta criticando questa linea forse non è simpatica da vedere lo confermo anch'io non è una cosa simpatica da vedere perché vedere magari come è stato trattato di Bala non mi è piaciuto vedere come adesso si parla di De Ligt non mi piace è anche vero che danni a questa parte io in primis chiedevo il pugno duro nei confronti di alcuni calciatori che in questo momento non aveva più niente da dare a Juventus e allora mi ricollego al discorso iniziale perché se c'è questa nuova linea in cui la Juventus decide anche se i calciatori poi possono esprimere una volontà di andare Alessandro abbiamo parlato di terzini sinistri all'inizio Alessandro bene di Bala voleva rimanere ed è andato lo stesso pugno duro la Juve voleva rinnovare De Ligt ma De Ligt ha espresso la volontà di andare e allora si tratta alle loro condizioni Alessandro vuole rimanere c'è ancora un anno di contratto e lo si dice chiaramente qui non c'è futuro qui non si gioca nelle due gioca il ragazzo che è retrocesso col Genoa che ha fatto una stagione in Serie A perché non abbiamo intenzione ancora una volta di pagarti uno stipendio che non ti meriti e attenzione che c'è il mondiale perché non si può tenere un giocatore che prende 7 milioni di euro all'anno e che rende in maniera pietosa da qualche anno a questa parte allora linea dura mi va bene ma la facciamo a 360 gradi nomi per sostituire De Ligt a parte i vari Koulibaly Bremer che ribadisco io sono nomi a cui credo relativamente non lo dico da tanto ieri se ne è stata a parlare di Akanji del Borussia Dortmund mi pare e di Kimpembe del PSG allora Kimpembe non mi sembra male l'ho visto giocare qualche volta niente di che magari le volte che l'ho visto giocare in Champions principalmente mi aveva dato l'impressione di essere un buon difensore Akanji l'ho visto giocare decisamente meno mi pare di averlo visto in una partita tra Bayern e Borussia in cui ha fatto anche un errore gravissimo forse avevamo addirittura l'ex-truth a vederla però ovviamente non puoi giudicare da un singolo elemento un difensore quindi chiedo a voi se li avete visti giocare un po' di più se secondo voi sono difensori interessanti se possono essere il post-Delete e soprattutto se si avvicinano anche solo al livello di Delete perché per me Delete rimane un giocatore incredibile rimane un giocatore fantastico che vorrei trattenere all'interno della rosa la Juventus ma dipende da lui non dipende più dalla Juve dipende da lui vuoi rimanere? c'è rinnovo di contratto non vuoi rimanere? dobbiamo cercare di massimizzare la tua cessione ed è molto triste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti